Restate a Leporano, l'estate Leporanesse 2018 prosegue alla grande, questa sera una serata dedicata al varietà comico musicale con la compagnia Napoli in canto. Napoli con i suoi suoni, con la sua musica, con tanti caratteri del nostro sud, questi caratteri che sono comuni alla nostra collettività ionica. Sindaco, un momento che arricchisce il calendario dell'estate Leporanese? La vicinanza con Napoli non è soltanto geografica ma vicina anche perché il castello di Musceto, di Musceto proveniva da Napoli, quindi da Ravello in particolare, quindi siamo molto vicini alla cultura napoletana e alla cultura del regno delle due Sicilie sostanzialmente e quindi questo ci accomuna tantissimo e ci porta chiaramente ad avere queste rappresentazioni culturali e teatrali e musicali della cultura e della musica napoletana, quindi noi siamo contenti e anche quest'anno abbiamo avuto fortemente la presenza del maestro Capurri e della sua compagnia a Leporano che è una compagnia comunque d'eccellenza e che rappresenta nel modo migliore la musica e la cultura napoletana. Una compagnia che riscuote enorme successo, qui il castello Musceto, l'Atrio e Stracolmo non è la prima volta, già sono stati altre tre o due o tre volte mi pare a Leporano, evidentemente è un genere proprio che prende il cuore della comunità Leporanese e non solo. Sicuramente così come abbiamo fatto anche l'anno precedente porteremo questa rappresentazione in piazza perché ormai non bastano i posti, quindi a noi ci fa piacere perché comunque la gente ci segue. Restate a Leporano, estate Leporanese 2018, uno speciale polifemo dedicato a questo momento interessantissimo e piacevolissimo, il varietà comico musicale. Ascoltiamo i protagonisti. Signori, attenti alle donne, è lo spettacolo, il varietà comico musicale della compagnia Napoli Incanto, compagnia stabile del Teatro Margherita di Napoli e abbiamo qui un dolce, un felice rientro in quel di Leporano, restate a Leporano, l'estate Leporanese 2018, Luciano Capurro, nipote dell'autore di O Sole Mio, stiamo a Napoli pur trovandoci a Leporano. Beh, bisogna stare attenti a queste donne allora. Vabbè, è un monito che ci è stato indicato già da tanto tempo da Armando Gill, che è stato il primo cantautore italiano. Napoli ha dei primati veramente in tante cose, le prime romanze, il primo Caffè Chantal, la prima canzone melodica e anche chiaramente il primo cantautore. L'anno scorso facemmo Caffè Chantal, se non ricordo male. L'anno scorso abbiamo fatto due spettacoli, l'uno a luglio ed era il Caffè Chantal, ad agosto in piazza invece è uno spettacolo tutto sugli anni 50. Quest'inverno abbiamo fatto Caffè Babà, direttamente dal Gambrinus di Napoli in Piazza del Plebiscito e abbiamo avuto l'onore, ancora una volta grazie all'amministrazione comunale, di essere qui questa sera in un castello splendido, in un cortile strapieno di gente, di rappresentare un'altra varietà comico musicale con altri grandissimi artisti, perché questa è una compagnia che è polietrica, cambia i protagonisti ma il risultato rimane sempre quello. Un grande successo di pubblico, è un riscontro comico. Cambiano gli orchestranti ma la musica è la stessa. Sì, la musica rimane sempre invariata. Questa sera abbiamo Sassà Trapanese. Ecco, prima di sentire Sassà e poi c'è il vice sindaco, la dottoressa Lotta, insomma andiamo proprio nel merito dello spettacolo di questa sera. Si parla tanto di tutela del gentil sesso ed è giusto farlo, ma io dico che anche gli uomini devono essere tutelati perché le donne si sono fatte scaltre e furbette. Beh, questo diciamo è un tema scottante. È inutile dirlo che chiaramente si tratta di un grande problema sociale perché ci sono purtroppo degli uomini che non potrebbero avere diritto ad avere titolo di esseri umani. E preso atto di questa cosa però invece poi dobbiamo riconoscere che la maggioranza silenziosa, cioè il maschio, è quello che è sottomesso. Noi a Napoli diciamo... Facciamo la festa dell'uomo. Dopo la festa della donna, la festa dell'uomo. La dobbiamo fare. Basta anche vedere il marito dell'assessore, quel poveretto che deve subire la personalità travolgente di questa donna così dirompente. Dobbiamo dirlo. Beh, bando gli scherzi, chiaramente siamo due sessi che hanno bisogno estremamente l'uno dell'altro, con dei giusti contrappesi, logicamente. Stasera ci scherziamo su. Ecco, prima di sentire il protagonista, l'attore, Sasà Trapanese, abbiamo nominato la dottoressa Yolanda Lotta, vice sindaco di Leporano, nonché assessore agli spettacoli e alla comunicazione istituzionale. Beh, l'hanno descritta come una donna leader e sicuramente lo è sul piano politico-amministrativo. Ora, al di là delle battute, una bellissima serata, un castello traboccante, colmo di persone, si fa la lotta per un posto, gioco, lotta, lotta, e magari mi potete anche assumere nella compagnia, non si sa mai, sono anche di origine napoletana. Ci lascio un recapito a telefono. Ecco, anche alla mail. Mio padre è della provincia di Napoli, potrebbe essere un elemento in più. Ora, al di là di questo, una grande partecipazione, un modo per sorridere, per così dimenticare i problemi del quotidiano, perché Napoli dà gioia e una infusione di vita. Sì, l'amministrazione comunale questa sera ha fatto veramente bingo, perché la gente fuori, con Sassaro stavamo attenti alla gente, perché ha occupato anche i posti nostri, perché avevamo una disponibilità molto risicata. Io sono anche io di origine napoletana, perché mia mamma è napoletana e di Capodichino, e che dire, abbiamo l'onore di avere qui Capurro, con tutta la sua compagnia, è la quarta volta che ci viene a trovare, ed è sempre un successo, perché la gente, diciamo, non si neanche stanca, non si stanca, perché uno dice la prima, la seconda, la terza, la quarta volta, come diceva lui, è uno spettacolo che è in continuo cambiamento, in continua evoluzione. Ogni volta ci propone qualcosa di nuovo, la gente è assetata e vuole divertirsi, ed è assetata dalla compagnia stabile del Teatro Margherita di Napoli, la compagnia Napoli Incanto di Capurro. E allora, Sassà Trapanese, l'attore, la colonna portante? Beh, la colonna portante, no, perché sono tutti delle colonne portanti, lo spettacolo funziona proprio perché ognuno dà il massimo di se stessi. Cosa interpreta proprio? Io faccio delle macchiette, delle poesie, degli omaggi a Totò e ad altri personaggi, amo tantissimo Taranto perché ci sono stato con compagnie di prosa come Mario Carotenuto, Lavia, e quindi tornare con i Capurro, ai quali sono legatissimi, al papà di Luciano che produceva degli spettacoli straordinari, con dei grossissimi nomi, quindi tornarci stasera a vedere fuori quell'accalcamento per i posti ed è una cosa comunque bella perché poi è il pubblico che fa il nostro successo. Il nipote, Luciano Capurro, dell'autore di O Sole Mio, questo sole che bacia il sud, che bacia il nostro mare, abbiamo un sangue caldo, abbiamo tanti problemi, però abbiamo un senso profondo di umanità e queste caratteristiche accomunano Taranto a Napoli. Sono due città completamente gemellate, abbiamo tante cose in comune, dai problemi alle cose belle, quindi di conseguenza ci sintonizziamo immediatamente, giriamo dovunque e dappertutto, ma delle similitudini così forti che troviamo con Taranto non le troviamo in altri posti. Lo dico non perché siamo qui, perché può sembrare una sviolinata, ma in realtà è così. Quando veniamo a Taranto ci sentiamo a casa. Io voglio lanciare un'idea, già l'ho proposta, ora la sto approfondendo, definendo meglio, già ne ebbi modo di parlarne con l'amministrazione comunale di Leporano, sapete tutti quanto io sia innamorato di Napoli e ho proposto un gemellaggio, uno scambio culturale tra Taranto e Napoli, Taranto e la sua provincia, partendo dal patrimonio archeologico, siamo città della Magna Grecia e partendo dal patrimonio archeologico andare a considerare tutti i punti in comune consideriamo il discorso del turismo, il discorso dell'artigianato, il discorso della gastronomia, il patrimonio archeologico, dicevo. Quindi, Assessore, potremmo davvero far sì che queste realtà, quella di Leporano, quella di Taranto, della provincia ionica, possano avere un momento di contatto con Napoli, un momento istituzionale, un momento di crescita, perché poi fare queste iniziative permette di far crescere il territorio, di fare economia, di unirci una volta tanto. Sì, possiamo questo inverno vedere di... Anche in concomitanza con il periodo dei presepi. Sì, possiamo organizzarsi perché noi abbiamo un palazzo, il Palazzo Luperano, che si trova a Napoli e apparteneva ai Principi Muscettola, cioè a questo bellissimo castello e questo palazzo si trova proprio al centro di Napoli, Palazzo Luperano, Luperano si chiama, centro storico. Sicuramente sarebbe anche bello andare a vedere e fare... perché abbiamo trovato anche delle similitudini, come ad esempio lo stemma, lo stesso atrio del... L'architettura che è similare, logicamente. Vabbè, ma d'altronde Napoli è stata la capitale di uno Stato, insomma, di una nazione. E queste tracce rimangono, no? Rimangono dappertutto. Siamo un popolo che, anche se sono passati 150 anni, insomma, per tradizione appartiene ancora a quel periodo. Va bene, una bella iniziativa. Prego. Perché stasera abbiamo due voci che sono bellissime, quella di Luciano Capurro e della soprano Anna Caso. E ora la Coop Ti amo, impresa diretta, la soprano. È un soprano showgirl, quindi è una tipologia unica perché per fare teatro di varietà bisogna saper fare un po' di tutto. Quindi avere una connotazione fissa in questa compagnia non va bene. Bisogna sapere... L'essere versatili artisticamente. E lei lo è in maniera veramente... Straordinaria. Due parole, soprano. Che dire, che dire. Buon inizio per questo spettacolo a tutti noi. In bocca al lupo. E divertitevi soprattutto. E allora noi ci rivedremo magari presto intanto qui e con quella bella iniziativa. Penso che vi piacerà. Allora possiamo dire,iamo buono. iamo buono. Secondo me potremmo prendere spunto per mettere su in piedi un premio. Definito premio sole mio a questo punto. Visto che io sono il buono nipote e posso sicuramente essere io il testimone di questo progetto e metterlo in piedi. Quindi fare questo gemellaggio. Voi siete la città dei due mari e quindi potremmo allargare il ragionamento ai tre mari. E allora Assessore, Assessore Vice Sindaco, partiamo noi come organo mediatico, loro come gruppo artistico, voi come ente, come amministrazione e un'idea su cui lavorare. Va bene, questa è una bella idea, il riscatto del sud, no? Certo, certo. Andiamo avanti. Viva il sud, viva Napoli, viva Taranto. Viva Napoli.